... Dubbie elettorali, il giorno del Tar, cominciata la lunga giornata dei ricorsi al Tribunale Amministrativo in udienza per firme irregolari e vizi sul distino maggioritario di frattura. ... Succherificio, bilancio inattivo, audizione in seconda commissione con i vertici dell'azienda di Termoli. Per la prima volta conti positivi, intanto sulla GAM nessuno deve arrendersi, il parere del direttore di Telemolise Emanuela Petescia. Colpo in gioielleria, sgominata la banda, raffica di arresti nel napoletano, nell'operazione Lo Scrigno d'Oro. In manette i complici della donna che assaltò il negozio in via Ferrari a Campobasso lo scorso 2 novembre. Il pane di Sant'Antonio consegnato a Chiauci. La manifestazione in onore del Santo di Padova coinvolge l'intero paese. Diverse le iniziative nei comuni della regione per festeggiare la ricorrenza. Il Campobasso completa lo staff tecnico. Dopo l'annuncio dell'allenatore Stefano Vincola arriva anche il preparatore atletico. Ingaggiato Vincenzo Milazzo, ex Padova e Lanciano. Un saluto a tutti voi. Buon pomeriggio, edizione delle 14 del nostro telegiornale. Come avete sentito dai titoli di copertina, oggi è il giorno del Tar. Al Tribunale amministrativo sono in discussione i ricorsi elettorali. Sono diversi, presentati dai partiti che chiedono ai giudici amministrativi di panare i nodi sulla questione della raccolta dei firme, sulla legittimità del listino maggioritario di frattura. Ma sono nati nodi anche durante il dibattito in udienza questa mattina, a cominciare dalla autenticità di alcune notifiche. Si è profilato addirittura l'intervento della magistratura ordinaria. I lavori al Tar li sta seguendo per noi Giovanni Minicozzi. Dovremmo essere in collegamento in diretta con Via San Giovanni dei Gelsi. Vediamo se è pronto il collegamento. Sentiamo dalla regia. Dovremmo allora avere, eccolo qua, con gli avvocati delle parti in causa. Giovanni, a te la linea. Sì, grazie Giovanni. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Il dibattimento c'è stato per tutte e tre i ricorsi. È durato circa un'ora e mezza. Alla fine il collegio si è riservato di decidere e la sentenza uscirà domani. Ovviamente l'attenzione si è concentrata sul ricorso principale, quello che chiede l'annullamento delle elezioni. E su questo ricorso si è sviluppato un ampio dibattito. Tra le parti in causa, con me c'è Salvatore Di Pardo. Nel mirino sono finiti due liste, soprattutto la lista del Movimento 5 Stelle e la lista dei comunisti italiani, che secondo la parte che difende i due cittadini elettori dovrebbe rovesciare, no, rovesciare, dovrebbe annullare il risultato delle elezioni. Tra l'altro è successo quello che tu dicevi, cioè la mancata notifica al Movimento 5 Stelle del ricorso. Sono parti in causa, evidentemente, ma i rappresentanti del Movimento 5 Stelle avrebbero cambiato residenza proprio nei giorni della notifica del ricorso per cui una delle parti ha chiesto addirittura di verificare dove è la residenza abituale dei due rappresentanti del Movimento 5 Stelle ma a un certo punto Salvatore Di Pardo su questo ricorso, che è qui vicino a me, ha tirato fuori l'asso dalla manica, ha chiesto la inammissibilità del ricorso proprio perché non c'era stata la notifica a Antonio Federico e Patrizia Manzo. Come l'è venuta questa idea, Avvocato? Noi abbiamo fatto un atto di intervento in uno dei due ricorsi e per fare l'atto di intervento abbiamo dovuto acquisire le residenze di tutti i controinteressati e abbiamo rilevato che la residenza di due controinteressati non era combaciante con quella a cui era stata fatta la notifica del ricorso principale e quindi abbiamo da ciò dedotto che il ricorso era stato notificato in un posto sbagliato e per questo non c'era stata la Costituzione correttamente, non si erano costituiti in giudizio i rappresentanti del Movimento 5 Stelle. Peraltro va detto che questo cambio di residenza lo hanno fatto addirittura prima del deposito del ricorso quindi non sapevano nemmeno che ci sarebbe stato un ricorso quindi un minimo di attenzione avrebbe consentito di effettuare notifiche regolari. Comunque secondo l'altra parte in causa dovrebbe arrivare qui da noi tra un po' magari ci ricolleghiamo all'Avvocato Margherita Zeggia che difende insieme a Marone e insieme a Iacovino i due cittadini elettori, tra l'altro con Dipardo c'è lo Stolo di Avvocati che lui è il capitano ovviamente della squadra gli Avvocati della Controparte hanno chiesto l'annullamento delle elezioni perché il risultato sarebbe stato inficiato dal voto dato alle due liste. Io faccio veramente fatica a comprendere lo schema seguito da Controparte perché lo schema seguito da Controparte si basa su questo assunto che è indimostrato. Indimostrabile e illogico. L'assunto è che se non fosse stata ammessa la lista dei grillini tutti gli elettori dei grillini, chiamiamoli grillini per semplicità tutti gli elettori di Grillo avrebbero votato il candidato Michele Iorio e aggiungendo a questo i voti di alcune liste provinciali ci poteva essere un risultato che andava oltre il risultato ottenuto dalla frattura. È evidente che non è così perché ammesso non concesso che fosse stata esclusa la lista dei rappresentanti di Grillo è ovvio che quegli elettori in parte non sarebbero andati a votare in parte avrebbero votato altri candidati come Massimo Romano, come lo stesso Frattura quindi è assolutamente illogica e priva veramente di una struttura seria la tesi secondo cui tutti gli elettori di Grillo avrebbero votato il presidente Michele Iorio mi sembra sostenere questo come base della cosiddetta influenza che c'è stato sul risultato elettorale mi sembra veramente molto azzardato in definitiva mi sembra che il risultato elettorale questa volta sia stato chiaro gli elettori hanno voluto come presidente il presidente Frattura e hanno dato questa indicazione in maniera nettissima ha preso il doppio dei voti del secondo e tre volte i voti del terzo quindi mi sembra che la volontà popolare sia chiarissima Naturalmente l'avvocato porta acqua al suo mulino ma prima di cedervi la linea faccio una previsione la sentenza uscirà domani o il dispositivo o la sentenza Faccio una previsione Io penso che sicuramente c'è un problema per quelle notizie non so come Ma vediamo se riusciamo poi a prendere la previsione di Salvatore Di Pardo in questo momento abbiamo Seconda battuta c'è un problema di interesse Vabbè, la ripescheremo nelle prossime edizioni la battuta di Salvatore Di Pardo Se non ci sono novità dal TAR possiamo tornare in studio Sta arrivando Margherita Zezza Giovanni Ce l'hai già lì? Ok Sta arrivando, ancora no Vi chiediamo noi la linea D'accordo Ringraziamo Salvatore Poi la battuta sulla previsione Non ha previsto niente ovviamente Non può prevedere niente A voi la linea Grazie, grazie a Giovanni Minicozzi A Salvatore Di Pardo e ai suoi ospiti Noi andiamo avanti col telegiornale Parliamo della protesta della fisomedica Loretana di Toro che ha annunciato un presidio davanti alla giunta regionale da domani se non dovessero esserci novità I lavoratori hanno fatto sapere di non avere ancora ricevuto risposta dal tavolo tecnico chiesto alla regione E dalla fisomedica apriamo la pagina invece sull'agroalimentare cominciando dalla questione della GAM con la quale noi da mesi assistiamo a una lunga serie di iniziative eclatanti organizzate dai lavoratori del gruppo Arena Solagrital e GAM e dai lavoratori dell'Indotto iniziative apparentemente inutili perché prive di idee dunque senza via d'uscita ma una soluzione in qualche modo dovrà essere pure trovata e a questo proposito sentiamo il commento del direttore Emanuela Petesce Riassumere le ragioni della crisi della GAM non è difficile Le perdite mensili si aggirano intorno agli 800 mila euro e la ricerca di imprenditori privati disponibili a rilevare l'azienda non può materialmente concludersi nei tempi brevissimi che le circostanze di assoluta emergenza richiedono In questa situazione l'ipotesi che la regione abbandoni la GAM al suo destino per ragioni di bilancio perché la regione non può più erogare finanziamenti a fondo perduto perché la regione non può diventare un'azienda di polli peraltro in perdita non è neppure da prendere in considerazione Si risparmierebbero 800 mila euro al mese ma la decisione potrebbe innescare una vera e propria bomba di povertà e conflitti sociali Un deserto produttivo ed economico il cui risultato potrebbe andare molto, molto oltre la cifra risparmiata per salvaguardare le ragioni del bilancio Il Molise centrale non è un'isola un villaggio separato dal resto della regione che si possa abbandonare al suo destino senza pagarne tutti le conseguenze Boiano è una sola cosa con Campomasso con Isernia, con Termoli è un crocevia strategico dell'economia molisana la GAM siamo noi E allora studiare una soluzione attendere il decollo concreto autonomo dell'azienda sollecitare il governo, motivare gli imprenditori privati non è necessariamente in contrasto con l'erogazione momentanea di risorse regionali Si abbassi almeno la febbre del malato ha detto ai nostri microfoni il direttore generale della GAM Angelo Giallorenzo e a noi sembra una metafora ben riuscita Le idee al nuovo presidente della regione non mancano né mancano alla sua squadra anzi, la soluzione di questo problema può costituire una grande prova per il nuovo governo molisano un test, forse il passaggio più importante da affrontare ma la TV in questo momento ha il dovere di stare al fianco degli allevatori vicina agli operai, ai piccoli produttori ai fornitori, ai trasportatori a quanti attendono con il fiato sospeso davanti ai cancelli dell'azienda e alle famiglie che attendono con loro Oggi voi dovete avere un coraggio siete giovani dovete avere un coraggio forte dovete dire che questa azienda deve chiudere e se no, da oggi si dovete fare un assegno immediato qua serve di sosta per vivere Dalle difficoltà della GAM al risultato positivo dello zuccherificio che per la prima volta ha presentato i conti in attivo nell'audizione della commissione regionale sentiamo Manuela Iorio Lo zuccherificio del Molise è in vendita i termini per presentare un'offerta scadono il 16 giugno e finora solo una società l'olandese Royal Cozum ha mostrato interessi arrivando con una delegazione fino a Termoli qualche settimana fa per visitare lo stabilimento che alle prese con un fallimento tra capo e collo al momento è in concordato preventivo il compito di traghettare lo zuccherificio in questa difficilissima fase tra creditori da tenere a bada e un'azienda da rimettere in piedi è stato affidato al manager Alberto Alfieri la cui gestione di recente è finita sotto accusa per consulenze e incariche assegnate a società e professionisti per quasi 2 milioni di euro proprio nel momento più difficile per l'azienda saccarifera di tutto questo il manager è stato invitato a relazionare nella seduta della seconda commissione regionale che è durata più di tre ore Alfieri ha fatto un resoconto del suo lavoro illustrando anche la situazione trovata al suo arrivo più di un anno fa 90 i milioni di euro bruciati in passato frutto secondo il presidente della seconda commissione Carmelo Parpiglia di una gestione maldestra e priva di risultati da parte della scorsa amministrazione regionale oggi invece all'attivo in bilancio ci sono un milione e 600 mila euro in commissione ci sono state conferme sulla sostenibilità del futuro dell'azienda dei suoi dipendenti e dell'indotto manca solo il passo successivo quello della vendita a privati ovviamente perché la regione non può più continuare a fare impresa sulla questione delle consulenze Parpiglia ha rimarcato l'eccessiva onerosità delle stesse aspettando di chiarire ancora meglio la questione quando la commissione tornerà a riunirsi Alla Fiat di Termoli gli operai tirano un sospiro di sollievo dopo che l'Inps ha accettato le richieste di cassa integrazione avanzate dallo stabilimento nei mesi scorsi e non ancora prese in esame una situazione che aveva spinto l'azienda a annunciare che non avrebbe più anticipato la cassa integrazione in busta per conto dell'Inps la situazione si è risolta dopo l'intervento dei sindacati e della politica torniamo a collegarci con il TAR con Giovanni Minicozzi dovrebbero essere arrivati gli avvocati della controparte Giovanni allora no non sono arrivati dici quali sono le novità non sono arrivati Giovanni solo per dirvi rapidamente rapidissimamente che ci sono altri due ricorsi in itinere e ve lo vorrei sintetizzare davvero con pochissimo tempo Margherita Azezza ha avuto un contrattempo ma tenete conto che c'è sul campo sul tavolo dopo il dibattimento un'ipotesi di frode processuale per cui dovrà intervenire la procura la frode processuale sarebbe a carico del Movimento 5 Stelle dei due rappresentanti che sostanzialmente si sarebbero nascosti e non avrebbero ritirato la notifica dei due ricorsi perché gli altri due ricorsi poi riguardano Cosmo Tedeschi di Isernia sul quale pende un giudizio di sospensione da parte del Tar perché è in atto un altro procedimento presso il Presidente della Repubblica per l'attribuzione sul decreto del prefettizio che attribuiva i seggi tra Capobasso e Isernia quel ricorso riguardava la possibilità di attribuire altri due seggi ai Isernia tra i quali uno a Cosmo Tedeschi e la conseguente fuoriuscita dal Consiglio regionale di Cristiano Di Pietro il terzo ricorso riguarda ancora una volta il Movimento 5 Stelle la loro esclusione è stato presentato da Gianluca Cefaratti difeso sempre da Margherita Azzezza e dall'avvocato Lucia Liberatore e qui gli avvocati la parte interessata al ricorso hanno detto che possono anche hanno chiesto al collegio di recuperare la possibilità di rinotificare il ricorso al Movimento 5 Stelle ma ripeto hanno sottolineato questa bomba una vera bomba uscita dal Tarra quella dell'ipotesi di frode processuale staremo a vedere come finisce maggiore approfondimento nelle prossime edizioni a voi la linea Giovanni grazie grazie allora Giovanni Minicosti dal Tarra noi andiamo avanti con il telegiornale parliamo di cronaca perché c'è stata una raffica di arresti nel napoletano per la rapina ai danni dell'oreficeria Tancredi avvenuta sette mesi fa a Campobasso i carabinieri hanno individuato e arrestato i complici della donna che mise a segno un colpo da 300 mila euro i dettagli saranno illustrati nel pomeriggio in una conferenza stampa intanto il servizio li ha guidati dal carcere dritti ai complici della rapina Michela Ferraiolo napoletana di 29 anni il 2 novembre aveva seminato il panico in via Ferrari a Campobasso lei e altri quattro malviventi tra cui un'altra donna avevano fatto irruzione nella gioielleria lo scrigno d'oro un assalto finito male perché proprio Michela era finita in manette dopo la reazione del proprietario del negozio Pietro Tangredi che aveva anche sparato un colpo di pistola il bottino tuttavia era rimasto nelle mani dei complici mentre la piccola boss finita in carcere a Foggia si era assunta a tutte le responsabilità ma durante i colloqui con i familiari e l'ex marito lei e i suoi compari avevano notato la telecamera a circuito chiuso del penitenziario ma non potevano sapere delle cimici disseminate nel parlatorio e così dalle richieste di sapere dove erano finiti i soldi chi aveva comprato l'oro il colpo aveva fruttato quasi 300.000 euro gli investigatori coordinati dal sostituto procuratore Fabio Papa hanno riavvolto il film del colpo e individuato uno a uno complici e basisti oggi i carabinieri di Campobasso insieme a quelli di Napoli sono andati a bussare alla porta del convivente di Michela e dell'ex marito con loro è finita in carcere anche la seconda donna entrata nell'oreficeria di via Ferrari riconosciuta dai presenti anche per via del vistoso tatuaggio tribale sul fondo schiena l'operazione chiamata in codice lo scrigno d'oro è scattata alle 4 di questa mattina tra Napoli Aversa Casa Luce e Torre del Greco una retata che avrebbe messo nel mirino tutti i protagonisti del colpo del 2 novembre a Michela Ferraiolo l'ordinanza di custodia è stata notificata nella cella del carcere di Pozzuoli dove lei è detenuta io il carcere me lo so fare ha scritto nei mesi scorsi alla sorella ma quando esco vedrai che combino quelli là fuori me la devono pagare lei dura come una vera boss si è consegnata senza saperlo nelle mani della giustizia Torniamo alla pagina amministrativa per parlare del polverone che c'è ormai a Isernia sulla questione del bonus alla segretaria generale affidato da parte del commissario prefettizio sentiamo Enzo Di Gaetano 23.000 euro in più all'anno che fanno lievitare la ritribuzione annuale del segretario generale del comune di Isernia quasi 100.000 euro un aumento che cozza contro la situazione di disavanzo di Palazzo San Francesco e lo sforamento del patto di stabilità mentre si tagliano i servizi sociali si aumentano i compensi del dirigente è intollerabile e sono in tanti che stanno chiedendo al sindaco Brasiello il ritiro della delibera con cui il commissario Filippi concedeva il bonus alla segretaria Petti in particolare Edmondo Angelaccio del PD chiede al sindaco di revocare gli atti in questione come primo provvedimento della nuova giunta mentre Tiziano Di Clemente del partito comunista dei lavoratori si rivolgerà direttamente al ministero degli interni e alla corte dei conti sollevando numerose questioni di opportunità e legittimità nulla di personale ovviamente contro la segretaria tanto di rispetto per tutte le professionalità non siamo d'accordo perché non c'era nessun obbligo normativo che costringeva la commissaria a derogare questo aumento di 23 mila euro e lo dimostreremo meglio andando in dettaglio nei prossimi giorni in più non essendoci obbligo giuridico ma una valutazione discrezionale aggiungiamo che si tratta quindi di una scelta politica che ribadisce un percorso antisociale cioè laddove si trovano 23 mila euro per un alto funzionario che già ne guadagna 85 mila non si trovano invece fondi per le mamme che stanno in difficoltà per gli asili chiusi a fronte di aumento di rette oppure si chiude la porta a chi non riesce ad arrivare alla fine del mese se non con qualche beneficenza o a chi non riesce a pagare i fitti cioè notiamo una scelta antisociale dietro questi provvedimenti tra l'altro adottati alla chetichella un po' sospetta a pochi giorni prima dell'insediamento del sindaco al quale avrebbero dovuto poi lasciare tutte le valutazioni del caso a proposito di conti andiamo a Boiano perché la mancata non approvazione entro i termini previsti dalla legge del rendiconto finanziario ha provocato l'arrivo del commissario ad acta abbiamo la maggioranza andremo avanti ha detto comunque il sindaco sentiamo Anna Maria Di Matteo l'amministrazione comunale di Boiano non ha approvato entro il 30 aprile scadenza prevista dalla legge il rendiconto finanziario del 2011 e quello del 2012 un mancato adempimento che ha fatto scattare la nomina del commissario ad acta il prefetto di Campobasso di Menna ha infatti firmato il decreto che invia al municipio Matesino Patrizia Perrino dirigente del servizio contabilità della prefettura con il compito preciso di approvare i due documenti contabili il provvedimento del prefetto ha lasciato di stucco il sindaco Antonio Silvestri che nel ribadire la compattezza e la tenuta della sua maggioranza ha anche spiegato che la mancata approvazione del rendiconto sia da addebitare a problemi di carattere amministrativo e non di certo politico la struttura ha precisato il sindaco non è riuscita in tempo ad elaborare l'atto contabile stupisce ha aggiunto Silvestri che il prefetto abbia inviato il commissario per approvare il rendiconto che invece è prerogativa del consiglio comunale la legge dice che al commissario spetta il compito della stesura ma non dell'approvazione ad ogni modo ha concluso l'amministrazione resta saldamente in carica 3 milioni e mezzo di euro per risistemare il centro città Termoli una serie di interventi ce ne parla in questo servizio per 40 anni il cuore di Termoli è stato sempre lo stesso piazza Vittorio Veneto il corso nazionale sempre uguali nessun intervento per migliorare l'arredo urbano dal prossimo anno però Termoli non sarà più la stessa perché a settembre partiranno i lavori di riqualificazione che stando al programma presentato dalla ditta De Francesco di Castelpetroso che ha vinto l'appalto termineranno prima dell'estate del 2014 ambiziosi i progetti che prevedono un nuovo look per il centro per il lungomare per la scala Chiocciola per un finanziamento concesso dalla regione di 3 milioni e 400 mila euro il corso verrà pavimentato in pietra sarà su un unico livello senza marciapiedi dunque con al centro alberi e panchine la piazza invece verrà dotata di una fontana con giochi d'acqua e un sistema led per l'illuminazione il nuovo lungomare dalla rotonda del Mistral fino al viadotto ormai abbattuto prevede un allargamento dell'area pedonale con l'inserimento di gazebo e di una pista ciclabile e una nuova illuminazione i lavori partiranno dalla scala Chiocciola sempre odiata da tutti bersaglio delle critiche anche di Vittorio Sgarbi da tempo ormai ridotta a un Vespasiano verrà svuotata e verranno realizzate ringhieri in acciaio e in cima un sistema di illuminazione a led che simulerà un faro la ditta che si è giudicata all'appalto ha anche previsto un servizio di videosorveglianza e di filodiffusione lungo il corso l'amministrazione intanto sta studiando soluzioni alternative per i circa 100 parcheggi che verranno a mancare quando il corso sarà chiuso al traffico soddisfatto è il sindaco Antonio Di Brino che si è detto contento di poter dare ai cittadini una termoli migliore e più vivibile definendo quella della riqualificazione del centro un evento storico e ora andiamo a Chiauci dove la ricorrenza di Sant'Antonio di Padova è particolarmente sentita c'è una tradizione particolare viene consegnato il pane distribuito il pane in paese e così tutti gli abitanti sono coinvolti sentiamo Sergio Di Vincenzo il giorno della ricorrenza di Sant'Antonio da Padova i cittadini di Chiauci si incontrano di buon mattino così come facevano un tempo i contadini prima di partire per i campi in effetti il rituale della distribuzione del pane è molto antico le prime notizie certe risalgono all'Ottocento ma i chiaucesi si tramandano con orgoglio questa tradizione viene portata avanti da 16 famiglie a rotazione aprono le porte della loro casa per la benedizione del pane per offrire a tutti una ricca colazione dove vino, formaggio e ricotta fresca non mancano mai i nostri nonni poi i genitori ci hanno portato a questa bella tradizione ripeto e devozione li ringraziamo perché è una cosa bellissima e noi speriamo che i nostri figli i nostri nipoti possano continuare su questa strada una festa per la verità molto sentita senza troppi fasti molto tradizionale che vive dei ricordi del passato nella speranza di poterli trasmettere ai nostri figli e al futuro i ragazzi partecipano hanno preso a cuore questa ricorrenza lengono volentieri ed è anche il nostro motivo di soddisfazione tutto sommato questa può essere definita anche la festa della solidarietà se oggi offre l'occasione per rafforzare il legame tra i chiaucesi in passato quel pane distribuito casa per casa rappresentava un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà il pane moltiplicato passa innanzitutto per una divisione diventa in più perché sappiamo condividerlo ed è questo il senso bello anche e soprattutto in momenti come questi difficili a ricordarci che il poco di ciascuno permette a tutti ma soprattutto a coloro che hanno più bisogno che non manchi il necessario e il gesto che fanno nato da alcune famiglie come desiderio di fare in modo che questo giorno sia una festa per tutti ha permesso di continuare poi nel tempo negli anni questa tradizione dopo il pieno di prodotti e dolci tipici tutti in cammino nei vicoli del paese per la distribuzione porta a porta del pane benedetto la cosa bella è proprio questa il pane il pane come segno di vita che va portato ad ogni famiglia c'è un segno di rispetto di bene di solidarietà noi come piccola comunità senz'altro siamo impegnati in prima linea anche per salvaguardare il nostro futuro le tradizioni che si uniscono a un progetto di sviluppo culturale che poi si allarga anche a quello che è turistico con tutte le bellezze naturalistiche che abbiamo risultano essere veramente al centro del nostro progetto amministrativo dal pane di chiauci al mercato di campagna amica della col diretti gli stand sono stati aperti in piazza municipio a Campobasso Giuseppe Lanese la col diretti non ha dubbi il mercato di campagna amica è un'occasione preziosa per i consumatori per avere il giusto rapporto qualità prezzo e così in piazza prefettura a Campobasso gli stand della col diretti sono tornati a promuovere i prodotti del territorio quelli della cosiddetta filiera corta che garantisce meno spese meno inquinamento dovuto al trasporto e maggiore qualità e freschezza la col diretti ha lanciato un appello ad acquistare i prodotti locali come segnale di attenzione al proprio territorio alla tutela dell'ambiente e del paesaggio un gesto che contribuisce a sostenere allo stesso tempo anche l'economia locale e l'occupazione Campagna amica che vuole essere il punto di riferimento sia per le aziende sia per i consumatori consumatori con i quali noi abbiamo fatto un patto anni addietro un patto che è fondato su presupposti essenziali quali sono la certificazione del prodotto la tracciabilità e dall'altro ci sono le aziende la possibilità lo strumento per le aziende di attivare quella filiera corta che è lo strumento che dà valore aggiunto alle aziende agricole e territorio e questi argomenti saranno oggetto della trasmissione Figaro condotta da Enzo Di Gaetano come sempre in onda stasera alle 20.45 si parlerà di economia storia e potenzialità dei prodotti agroalimentari dell'Alto Molise ospiti in studio ci saranno Antonio Valerio e Natalino Paone abbiamo concluso questa edizione delle 14 del nostro telegiornale vi do appuntamento agli aggiornamenti alle 15 intanto vi lascio con le previsioni del tempo e la pagina sportiva grazie e a più tardi